Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita all'astra a signa in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Implumita greve inchianti per lavori. Sulla A1 sul tratto appenninico prevista neve nella giornata di oggi. Ricordiamo in questo senso l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Sulla A11 fare attenzione per personale su strada segnalato tra Capanno e Rialto Pascio in direzione Firenze. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!